ciao belli e bentornati sul canale io sono gerus e voi siete nel mio piccolo spazio sul web per parlare di passioni oggi arriviamo con un contenuto in esclusiva ossia la prima stagione della serie tv amazon original gen v che è un po lo spin off di quella meraviglia che è the boys quindi come prima cosa è giustissimo ringraziare ragazzi che mi hanno permesso di poter vedere in anteprima questo contenuto e dopo di che ci piazziamo subito un bel ringraziamento per i supporter e patrion tra l'altro se siete interessati a vedere qualche insomma poter far parte ecco di quella cerchia che sono i miei supporter vi invito link in descrizione andate sulla pagina patrion spulciate un po potreste anche diventare parte di una chat in cui avreste la possibilità di richiedere in anticipo determinati prodotti che vorreste io arrivassi a recensire magari proprio in anteprima detto questo un ultimo grazie ovviamente per tutti quelli tra di voi che decideranno di iscriversi al canale di mettere like al video commentarlo e così via e così via detto questo gen v va a trattare tutto ciò che ruota attorno alla godolkin university un'università per super che cerca di prendere dei giovani ragazzi e plasmarli negli eroi del futuro che andranno un giorno ad entrare magari nei sette che tanto abbiamo conosciuto ora di cosa parla un po più nel dettaglio in termini di tematiche senza fare ovviamente spoiler come sempre ragazzi qui non trovate spoiler a meno che non è un mega video di analisi sui significati di un determinato prodotto ovviamente comunque sia nel dettaglio andremo a seguire le vicende di alcuni ragazzi in età universitaria in età da college quindi diciamo la fascia adolescenziale americana per cercare un po di vedere il loro ingresso in questo mondo e in una qualche misura andare anche a toccare quelle tematiche tipiche per quel tipo di audience e questa è la prima grossa differenza che mi sento di mettere sul banco dei testimoni di questo gen v le tematiche sono differenti da quelle che abbiamo visto all'interno di the boys ma lo sono solo fino a un certo punto perché ovviamente si andrà a parlare di tutto quell'universo anche legato alle insicurezze di un'età giovanile all'affacciarsi in un'età adulta e a tutto quello che può portare in questa età magari anche solo la pressione dei genitori della società di tutto per cercare di emergere in un ambiente estremamente competitivo ma non è solo questo ed anzi la parte che io al momento ho apprezzato di più anche perché magari è più vicina a quello che io cerco da un prodotto del genere è proprio ciò che ha reso famoso the boys quindi prima rassicurazione state tranquilli se pensate che questa roba prenda semplicemente the boys e lo usi come marchio di fabbrica magari per fare delle visualizzazioni facili distaccandosi però da quello che era quel prodotto ecco non è così l'area un po più teen ma un po più adolescenziale in realtà è presente ma tutto ciò che ha reso the boys famoso quindi l'iper violenza l'irriverenza a tratti la volgarità il parlare di sesso il parlare di droghe ecco tutte quelle cose sono presenti anche in gen v ci tengo a dire che io allo stato attuale ho visto solo i primi tre episodi primo secondo e terzo di questa serie in anteprima e che gli altri avrò modo di recuperarli un po per volta una settimana alla volta come succederà un po anche per voi vi ricordo che la serie tv ci porterà all'interno di otto episodi che andranno a sviscerare tutto l'arco narrativo quindi che vedremo in questa prima stagione di gen v e che arriveranno appunto settimanalmente comunque sia torniamo alle rassicurazioni state tranquilli e ancora the boys ma è qui arriviamo alla possibile magari fase scricchiolante vedremo e con il terzo episodio soprattutto ho avvertito un po troppo indugiare sui temi adolescenziali su determinate dinamiche forse in modo un po troppo netto calcato però potrebbe benissimo essere semplicemente una cosa legata al singolo episodio qualcosa che puntata dopo puntata in realtà andrà a porre l'attenzione da altre parti chissà probabilmente in realtà è anche l'elemento di distinzione di questa gen v e nonché l'elemento centrale quindi lo possiamo benissimo accettare come parte del prodotto ed anzi magari proprio se siete in quella fascia che quelle tematiche comincia ad affrontare magari anche nella propria vita ecco che questo gen v potrebbe per voi essere magari un prodotto anche superiore a quello che è the boys che invece ha un taglio molto più maturo mi verrebbe da dire detto questo però una bella rassicurazione per quanto mi riguarda c'è stata proprio perché è un prodotto che orbita nell'universo di the boys ed a tal proposito senza dire nulla avremo modo di vedere questa trama probabilmente andando avanti andarsi ad inserire nel quadro generale di quello che è l'universo di the boys andando magari ad approfondire alcuni dettagli su tutta la questione del composto v su tutte le questioni di quello che è questo universo della vote e di tutto quello che ci sta dietro che andrà ad arricchire anche l'universo della serie tv principale quindi di the boys e questo mi fa ben sperare quindi magari torneremo a parlarne ragazzi una volta che avrò visto nuove puntate andando avanti per ora questo è un video abbastanza rapido che ci tenevo però a farvi avere prima possibile vi ricordo che la serie tv arriverà giorno 29 quindi fra pochissimi giorni su prime video e anche voi potrete recuperare queste puntate e magari farvi una vostra idea quindi aspetto nella sessione commenti le vostre opinioni a riguardo se vi piacerà se vi sembrerà un prodotto troppo derivativo o troppo differente chissà ognuno di voi avrà la sua opinione a riguardo io non vedo l'ora di vedere il resto delle puntate e capire dove lo piazzo nella mio gradimento personale di un universo che con the boys ho anche apprezzato a livello di fumetto basta ci si vede nella sezione commenti e come sempre io vi invito a mantenere salda la presa sulle vostre passioni perché sono quelle che rendono questa vita degna ad essere vissuta ciao belli alla prossima è ancora un'ultima volta grazie ai ragazzi di prime e a tutti i supporter che permettono a questa barca di continuare a sulcare questo mare digitale ciao 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 ciao